Non ti preoccupare, non dirà mai più niente a nessuno. Va bene. Ecco, questi sono i tuoi 500 dollari. Già, diventi cavo. Lui me ne ha dati mille. Sai, voleva che io ti ammazzasse. Il guaio è che quando uno mi paga, mi porto sempre a termine il lavoro. E tu dovresti saperlo. Oh no! Questa è il mio! E tu dovresti saperlo. E tu dovresti saperlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.